7 ottobre l'aeroporto di yogyakarta indonesia stiamo in mezzo alla pista a piedi in un'ora abbiamo raggiunto questa località una cosa curiosa l'aeroporto di yogyakarta terminal 3 è dovuto pagare 400 rupie 40.000 rupie ci sono tre ore per entrare nell'aeroporto qui ha piovuto ma non guarda che ha smesso però è caldo sempre infernale è caldo è caldo è caldo è caldo